La campagna vaccinale anti-covid in Toscana è partita il 27 dicembre 2020. La Toscana è la terza regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate per tasso di vaccinazioni effettuate. Le priorità del piano vaccinale regionale, come ha ricordato l'assessore alla sanità Simone Bezzini, devono essere in linea con quelle stabilite a livello nazionale. Il modello organizzativo messo a punto deve necessariamente tenere conto della specificità dei singoli ambiti territoriali, ma il principio di fondo della campagna vaccinale toscana risponde al principio di non sprecare e non ritardare alcuna dose disponibile. Dovendo seguire le caratteristiche dei vaccini disponibili, la pianificazione regionale è strutturata su due processi di distribuzione e conservazione. Nel modello definito freeze, il produttore, sempre sulla base delle coordinate stabilite a livello nazionale, spedisce le dosi direttamente ai punti individuati a livello regionale. Nel modello definito cold, il produttore spedisce ad un hub unico nazionale. I punti locali sulla base dell'andamento delle disponibilità richiedono progressivamente il quantitativo di vaccini necessari e custodiscono le dosi secondo le specifiche tecniche fornite. Ai nostri microfoni i consiglieri regionali della Toscana commentano l'andamento della campagna vaccinale. Devo dire che è stata una seduta interessante perché ha avuto il vantaggio di una sollecitazione, di un confronto da parte di tutti, opposizioni, maggioranza, su una sfida che è la vera sfida contro la pandemia, perché oggi l'argine per in qualche modo interrompere quello che è la catena di contagi che negli ultimi giorni aumenta anche in Toscana è proprio alzare il muro dei vaccini. La Toscana è risultato anche dagli interventi, direttamente o indirettamente, ha una capacità organizzativa sul piano della vaccinazione che è fra le migliori in Italia. E consentitemi, oggi noi abbiamo una Ferrari che però viaggia come una 500, perché abbiamo una capacità vaccinale da parte dei nostri operatori, negli hub che abbiamo messo, nelle convenzioni costruite con i medici di base, nel rapporto instaurato con il volontariato, che potrebbe offrire 25.000-30.000 somministrazioni di vaccino il giorno. In realtà poi arriviamo a meno della metà, perché manca la materia prima, i vaccini. Quindi anche dal dibattito in Consiglio è venuto fuori quello che io continuamente mi sento di dire al Governo nazionale, vaccini, vaccini, vaccini. Ponetevi il problema di arrivare a delle dosi di vaccino che vadano oltre quelle che sono state finora contrattate dall'Unione Europea, per creare le condizioni di una vaccinazione più diffusa. E comunque la Toscana, con il suo più di 90%, riesce oggi a offrire un vaccino a 260.000 persone nella nostra regione. Noi stiamo facendo un lavoro enorme, organizzativamente importante. Penso che sia giusto spiegare ai cittadini che il nostro compito non è quello di produrre i vaccini, il nostro compito è di somministrare nella maniera più rapida e più efficace possibile tutti i vaccini che ci vengono consegnati. Noi oggi con questa comunicazione e con la risoluzione collegata chiediamo al Governo di darci più vaccini, di parlare con l'Europa con ancora più forza. Più vaccini avremo, più riusciremo a combattere questo terribile virus. Noi vogliamo far rialzare presto la testa alla nostra Toscana e per questo con forza facciamo questa richiesta sia al Governo sia all'Europa. Oggi ci arriveranno nel mese di marzo tantissime altre dosi, 250.000 di Pfizer, 100.000 di AstraZeneca, 50.000 di Moderna, ma sono ancora, come capite bene, 400.000 dosi, molto meno delle esigenze che hanno i cittadini della Toscana. Mandiamo un messaggio a tutte le cittadine e a tutti i cittadini. Capiamo la voglia di correre, la corsa al vaccino, però ci sarà per tutti. Noi cercheremo di somministrarlo nel più breve tempo possibile e lo faremo partendo dalle categorie come stiamo facendo fino ad ora più fragili, gli anziani, l'RSA, chi lavora in prima linea, i medici. Insomma, la sfida vaccinale è la sfida dei prossimi mesi, ma non è solo una sfida per l'oggi, è una sfida per il domani, perché chi per primo riuscirà a vaccinare la gran parte della popolazione, per primo potrà tornare ad investire nell'economia, ad investire nell'attirare imprese, ad investire nell'attirare turismo. Questo è la sfida del futuro, dopo la crisi e l'emergenza sanitaria che è ancora forte in queste ore. Quindi consentitemi un appello ai cittadini e alle cittadine della Toscana. Il virus c'è, è forte, ci sono le varianti, noi faremo tutto quello che possiamo fare, ma voi rispettate le regole, per favore, mantenete le distanze, la mascherina, lavatevi le mani. Non è finita, non è finita. Capiamo che è pesante per tutti, davvero, tanto, specialmente per chi vive da solo, per chi è in condizioni più di difficoltà. Però ci aspettano ancora qualche altro mese di sacrifici, ne avete fatti già tanti, è quasi un anno. Il primo caso è stato il 21 di febbraio in Italia, è passato più di un anno e ci sarà ancora qualche mese da camminare insieme. Noi lavoreremo perché la vaccinazione vada ancora più veloce, siamo pronti per la vaccinazione di massa. I medici di base hanno iniziato a testare il modello con cui vaccinare sulle persone over 80. Ci sarà davanti a noi una sfida ancora complessa, ma ce la metteremo tutta. Ma intanto dalla comunicazione che oggi l'assessore ha fatto, mi pare sia evidenziato che i compiti fondamentali che una regione deve avere, deve svolgere rispetto al piano vaccinale sono stati svolti in maniera importante. Il primo è quello dell'organizzazione della campagna vaccinale e la Toscana ha organizzato due canali importanti, uno con gli hub e tutti i sotto gli SPOC organizzati con il sistema sanitario regionale che sono serviti per vaccinare il personale sanitario che ora stanno vaccinando le categorie che si sta vaccinando con AstraZeneca. Abbiamo attivato per prima regione la rete dei medici di medicina generale che, ricordo, fra ottobre e novembre ha vaccinato 1.400.000 persone con il vaccino per anti-influenzale. Quindi abbiamo attivato una rete importante che può sostenere una quantità di vaccini importanti che noi speriamo nelle prossime settimane arriveranno. Sul lato delle priorità abbiamo dato priorità alla resilienza del sistema sanitario e che si sta concludendo. Abbiamo vaccinato tutti i sanitari, è importante che in un'epidemia quel sistema regga. Abbiamo vaccinato gli ospiti e gli operatori dell'RSA e la Toscana anche dell'RSD, cioè delle residenze sanitarie per i disabili che sono state tutte vaccinate in Toscana. Noi chiediamo ora anche alla luce di quelle che sono le novità rispetto all'utilizzo del vaccino AstraZeneca che sono arrivate con la circolare di ieri, che si vaccinano fin da subito i caregiver e i familiari dei gravi disabili e delle persone estremamente fragili immediatamente con il vaccino AstraZeneca e che si anticipi alla prima fase insieme agli ottantenni anche le persone estremamente fragili, così come definite dal piano nazionale, sono i gravi disabili, sono gli oncologici e tutte le altre categorie che, se colpite dal virus, possono subire effetti molto gravi. E infine abbiamo appoggiato la strategia del Presidente rispetto all'acquisizione di nuovi vaccini. La Regione non fa proclami come fanno altre Regioni sull'acquisto a destra e manca in solitaria di vaccini, ma sostiene la necessità sui tavoli nazionali e quelli europei di aumentare la quantità di vaccini disponibili e la produzione a livello nazionale e anche regionale di vaccini e anche degli altri farmaci innovativi. Con il vaccino Pfizer e Moderna la categoria sono quelle degli ultraottantenni. È una categoria composta da 320.000 persone, quindi già quella categoria impiegherà diverse settimane. Noi chiediamo con la risoluzione che approviamo oggi in Consiglio di abbinare insieme, in contemporanea, aprire un canale per gli estremamente fragili. Sul canale dell'AstraZeneca, che per ora ha visto vaccinate le categorie indicate dal quarto punto del piano vaccinale nazionale, cioè gli insegnanti, la polizia, eccetera, di introdurre fin da subito i caregiver, cioè i familiari, chi si occupa di una persona estremamente fragile. E siccome nella circolare di ieri c'è scritto che non va usato AstraZeneca sugli estremamente fragili, ma non sui fragili, quindi chiediamo alla Giunta di valutare la possibilità di anticipare subito la vaccinazione di quelle persone che hanno una fragilità non grave, penso ai diabetici, agli asmatici, a chi ha una disabilità lieve, che possono quindi essere immediatamente inseriti nel canale dell'AstraZeneca se le valutazioni tecniche lo permetteranno come pare dalla circolare che ieri ha pubblicato il Ministro della Salute. Io ho iniziato il mio intervento nello stesso modo in cui incomincio questa breve dichiarazione. Poca gioia nell'urna chi non lascia eredità di affetti. Cioè abbiamo letto e sentito dall'assessore 180 pagine di cui la metà sono i bugiardini dei vaccini, altra buona parte è come si fa a mettere nella siringa la fiala realizzando il vaccino che deve essere ricostituito, quindi sinceramente ci aspettavamo qualche cosa di più, sinceramente anche qualche cosa parecchio di più. È stato contestato il fatto che sostanzialmente per noi è come se lui chiedesse che dal cielo gli arrivasse la manna. È stato anche contestato il fatto che qualche altro Presidente di Regione in qualche modo se le va a cercare le cose. Ognuno di noi è artefice della propria vita e conseguentemente per i toscani credo che le cose debbano essere cercate, non aspettato che venga dall'alto. Per cui questa comunicazione sui vaccini è uno status che riteniamo piuttosto deficitario. I criteri così tanto entusiastici non credo che dobbiamo considerarli tali. Io credo che dobbiamo metterci a pancia sotto e cercare di aumentare la vaccinazione, aumentare i vaccinatori, perché poi si rischia di perdersi nei meandri burocratici che impediscono, come è successo a dei medici della mia provincia di Grosseto, praticamente hanno saltato di due ore la possibilità di inserirsi nella piattaforma e quindi sono rimasti al palo. Credo che in una situazione di emergenza come questa le incombenze burocratiche devono essere assolutamente bypassate, superate, se no non si va da nessuna parte. Noi pensiamo che non ci sia niente per cui essere entusiastico. Abbiamo sentito entusiasta l'assessore Bezzini quando ci ha detto che 250.000 toscani sono stati vaccinati. Gli ha ricordato in aula che in Toscana ci sono 3.730.000 persone. Il fatto che ad oggi se ne sono vaccinate 250.000 non ci rasserena per nulla, ma ci rende preoccupati. Per questo uno dei due atti che presentiamo oggi è la richiesta a Gianni di farsi promotore presso la conferenza Stato-Regioni di sospendere i brevetti, di espropriare i brevetti delle aziende farmaceutiche titolari dei vaccini e di produrli in proprio, di farli produrre al tessuto industriale farmaceutico italiano e toscano che è all'avanguardia a livello internazionale. Sono spariti, guarda caso, le dosi di vaccini dal mercato europeo e sono comparse nel mercato statunitense dopo che Biden aveva appunto minacciato di fare un'operazione del genere. 250.000 toscani sono stati vaccinati ad oggi, non sono nemmeno il 10%. Noi siamo fortemente preoccupati, a questo bisogna porre rimedio. Non è colpa della regione toscana, non è colpa l'assessore Bezzini, ma il suo atteggiamento tiepido, remissivo rispetto a questa cosa ci preoccupa. Vogliamo più polso, vogliamo che l'Italia, la Toscana battano i pugni sul tavolino e vogliamo più dosi per mettere in sicurezza il maggior numero di persone possibili. Seconda cosa, a chi lo diamo? Noi non riteniamo che si debba aprire una gara tra lobby. Io sono un avvocato. La lobby degli avvocati, lo dico chiaramente, è riuscita a ottenere la vaccinazione per la propria categoria. Io non toglierò, nonostante che sia a favore dei vaccini, io non toglierò una dose di vaccino a un ammalato. Quindi non utilizzerò questa scorciatoia a disposizione degli avvocati. Pensiamo che ci debba essere una strategia ben precisa. Al netto della fascia A, ovvero 80 e categorie a rischio, si deve andare non per categorie professionali o per categorie sociali, ma seguendo dati oggettivi. Prima le persone malate, quindi più deboli, secondo per fascia d'età. Chi lo deve dare questo vaccino? Perché sono questi i tre punti. Chi viene vaccinato, chi lo inocula e dove. Chi lo deve dare? Noi lanciamo dei suggerimenti, lanciamo una proposta seria. Per esempio, di aprire agli studenti di medicina del quinto e sesto anno, in cambio di crediti formativi. Sarebbe oltretutto un'operazione che non costerebbe, non graverebbe sul vizio sanitario nazionale. Chiediamo di estendere la possibilità di fare le vaccinazioni ai farmacisti nelle farmacie, perché è un tessuto territoriale, capillare, che potrebbe coprire tantissime zone, altrimenti non coperte. In Toscana ci sono 1.218 farmacie, una ogni 3.000 abitanti. Dopodiché, appunto, dove? No, e anche su questo non abbiamo sentito una parola da parte di Bezzini, no ai tendoni, no alle pagode di Arcuri. Utilizziamo piuttosto strutture pubbliche, tipo caserme, palazzetti dello sport, stadi, palestre, oppure strutture private che hanno sofferto questa crisi, come i centri congressi, come gli hotel che hanno a disposizione questo tipo gli auditorium e via dicendo. Quindi la regione toscana è troppo tiepida, non può essere un successo dire oggi in aula che 250.000 toscani su 3.700.000 sono stati vaccinati. Non è un successo, è un dato molto preoccupante. Un dato positivo in Toscana, il fatto che 260.000 persone sono già state vaccinate, c'è una grande risposta da parte degli operatori sanitari, ottima l'iniziativa nei confronti degli insegnanti, del personale scolastico. Eravamo stati noi a chiedere che il mondo della scuola potesse essere vaccinato per prima, allo stesso tempo una risposta importante dei medici di base che daranno risposta alle persone ultraottantenni e queste sono richieste che abbiamo avanzato, così come i volontari del 118, la protezione civile. Ora chiediamo ovviamente di andare oltre, vaccinare le persone disabili, i loro familiari, indipendentemente dal livello della disabilità, tenendo anche conto e attenzione massima al fatto del luogo dove debbano essere vaccinati tutti i malati cronici, malati oncologici. Queste persone che vivono nelle condizioni di forte fragilità devono essere inserite nelle agende delle vaccinazioni nei prossimi giorni, non soltanto approvvigionamento ma anche massima attenzione alla loro cura. E poi ci sono delle categorie di lavoratori essenziali, quei lavoratori che erano essenziali quando c'era il lockdown, che tutti chiedevano di andare a lavorare, ovviamente non soltanto le farmacie che sono state già inserite in questo percorso, ma anche per esempio una cassiera, un commesso di un mercato, di un negozio di distribuzione, alimentare, un impiegato delle poste, un impiegato di una banca, tutti quei servizi che in termini essenziali non hanno mai interrotto di erogare servizi ai cittadini, hanno bisogno di essere considerati soggetti da vaccinare quanto prima. Con loro, che sono alcune categorie esemplificative, tutti i servizi essenziali e ovviamente le persone fragili. Noi abbiamo letto la comunicazione della Giunta che ci è stata inviata ieri, una comunicazione molto articolata, però a nostro avviso rimangono senza risposte molte domande che sono forse quelle che più interessano i cittadini e noi consiglieri regionali. Ossia quando verranno mandati gli altri operatori sanitari previsti dal bando del commissario Arcuri, quanti sono stati i volontari che si sono offerti per fare le vaccinazioni dai bandi che erano previsti per i primi di febbraio. Insomma, tante cose rimangono senza risposta, come ho fatto presente in Consiglio regionale. Per cui a nostro parere la relazione manca degli aspetti fondamentali per quanto riguarda le liste di riserva, che non si capisce come funzioneranno perché non è indicato da nessuna parte nella relazione. Queste sono alcune, solo alcune delle criticità che abbiamo trovato nella relazione, abbiamo fatto presente e spero che nella replica l'assessore ci dia le risposte. Fatto sta che oggi principalmente mancano i vaccini. Se la Regione Toscana farà valere la sua forza nelle sedi opportune per poter forzare i brevetti in modo da poter utilizzare quella clausola che permette in caso di pandemia e di emergenza sanitaria di fabbricare i brevetti e forse potremmo prevedere che in un futuro si arrivi anche a una produzione nazionale e regionale in grado di sopperire alle necessità. Perché ricordo che l'immunizzazione dei vaccini non dura per sempre ma dura solo qualche mese per cui ci dovremo trovare ad affrontare campagne vaccinali continue e questo comporterà il fatto che la Regione si doti di una produzione in proprio. Siamo assolutamente delusi da quello che ci è stato detto, lo abbiamo detto sia al Presidente Gianni che all'assessore Bezzini. Questo clima da va tutto bene a noi non piace, non va niente bene. Sono stati vaccinati in Toscana soltanto 260.000 toscani su oltre 3.700.000 abitanti. Se andiamo di questo passo i toscani saranno vaccinati fra oltre 3 anni. La domanda è possiamo aspettare 3 anni per essere tutti vaccinati? Assolutamente no. Ecco perché abbiamo chiesto un cambio di passo, ecco perché abbiamo chiesto all'assessore e al Presidente che battano i pugni sul tavolo. La responsabilità è di Roma perché non arrivano i vaccini, si facciano sentire. Potremmo arrivare al punto in cui, da partire dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, i vaccini si devono fare. Vanno alle case farmaceutiche, fanno chiudere i ristoranti, fanno chiudere gli stabilimenti balneari, ci tengono in casa per tre mesi, fanno chiudere tutte le attività commerciali, dicano pure alle aziende farmaceutiche che stanno producendo i vaccini, ci dispiace, dateci il brevetto. Perché se non siete in grado di garantire le dosi necessarie per vaccinare i nostri cittadini in tempo utile, per fermare la pandemia sanitaria, per far riprendere quella che è la più grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi, e allora quei brevetti devono diventare patrimonio dell'umanità, perché quei brevetti servono a salvare, in un caso, le vite e dall'altro anche la nostra economia. Non possiamo più aspettare, lo abbiamo detto in maniera molto chiara al Presidente Gianni, oggi si fanno 8.000 vaccini al giorno. Guardate, per raggiungere la vaccinazione necessaria ne occorre fare 45.000. Pensate di quanto siamo indietro. Ecco, la Toscana e i Toscani non possono più aspettare. Per questo oggi abbiamo detto, se volete una mano, noi ci siamo. Se volete anche l'interlocuzione dei Ministri di Forza Italia, noi siamo a disposizione, ma non ci stiamo più a questo balletto in cui si racconta ai Toscani che va tutto bene. Presentata in Consiglio regionale l'edizione 2021 del calendario della Fondazione Cure2Children. Testimonial dei 12 mesi, tre personaggi di eccezione, quali Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. La Fondazione si prodiga da 12 anni per portare la cura e la prevenzione direttamente in loco nei paesi a basso reddito. Il denaro raccolto viene infatti investito affinché le cure vengano prestate direttamente nel paese di origine, ad opera di personale sanitario locale, invece di sostituirlo con professionisti stranieri. Il settore operativo è quello dei tumori e delle gravi malattie del sangue nell'infanzia, che costituiscono una delle principali cause di morte dei bambini in tutto il mondo. Proprio grazie ai proventi che giungeranno dalla vendita del calendario, la Fondazione potrà sostenere l'acquisto dei primi farmaci salvavita, necessari a sconfiggere una malattia terribile che è il neuroblastoma. Sono stato subito colpito dall'impegno, dal lavoro che viene messo in campo dall'Associazione Culture Children, che ho subito aderito all'iniziativa e l'ho fatto in maniera così convinta che oggi vedere il video che è appena passato mi dà l'idea di quella che deve essere la strada da perseguire. Ogni qualvolta che sento insieme la parola cancro e la parola bambino, si accaponisce la pelle, sono parole che non dovrebbero mai stare insieme, invece purtroppo ci stanno e ogni qualvolta c'è qualcuno che investe, investe il proprio tempo, investe in iniziativa di solidarietà, investe in raccolta di finanziamenti per sostenere la ricerca, per aiutare a fare in modo che non accada più. Io penso che questa sia la strada da seguire. Grazie all'iniziativa, e portiamo in Consiglio regionale i calendari, che sono stati anche quest'anno realizzati, con il sostegno all'acquisto di questi calendari, si potrà sostenere l'acquisto dei farmaci salvavita necessari a sconfiggere una malattia terribile come il neuroblastoma. Ecco, io penso che iniziative come queste richiedano tutta la vicinanza e tutto il nostro sostegno, e chiedo anche a voi di farvi da cassa di risonanza. Più crescono, più arrivano a più persone, più è possibile che il lavoro di queste iniziative come queste vada avanti e produca risultati. Sembrava un progetto impossibile da realizzarsi, soprattutto anche quando poi scoprimmo che eravamo soltanto noi ad aver avuto quest'idea di andare a curare bambini con gravi malattie del sangue o malatti di cancro in paesi poveri o in via di sviluppo. Abbiamo scoperto che a questi bambini non veniva riservata nessun tipo di terapia, a volte non veniva neanche garantita una corretta diagnosi. Vi posso assicurare che a 40 minuti di volo noi abbiamo trovato queste situazioni. ci siamo armati di tanta buona volontà, tutta una serie di coincidenze fortunate, tra cui anche la passione e l'amore che ha voluto dedicare a questa organizzazione Leonardo Pieraccioni, che come sapete conosceva uno dei nostri bambini, che era un suo fan e che purtroppo morì. Pieraccioni fu molto scosso da questo accadimento e fin da subito accettò di dare vita a questa missione, a questo progetto. E come ho detto prima, dovevamo salvare un bambino. In questi giorni, come ho detto prima, abbiamo preso in carico Maria e Cristin, una bambina del Camerun, e ha fatto scattare nel nostro database il numero 10.000. Cristin è ammalata di anemia falciforme, è una patologia terribile, perché ha il triste primato di essere la malattia che procura più sofferenze. Oggi voi scoprite questo dato. È la leucemia che fa soffrire di più un bambino? No. È il neuroblastoma? No. È l'anemia falciforme. E dovete sapere che questa patologia, con dei farmaci, tra l'altro, che hanno un costo molto modesto, si riesce a gestirla bene fin dall'inizio. Vi dico questo perché ora Maria e Cristin sta già molto meglio, soltanto con una consulenza online e con l'indicazione di alcuni farmaci mirati. Maria e Cristin però per guarire avrà bisogno del trapianto di midollo osseo, che abbiamo già individuato compatibile il suo fratellino, e pertanto all'inizio dell'estate probabilmente accederà anche a questa terapia che gli salverà la vita. Questa è Churto Schildre. Come dice Pieraccioni, prende parte e fa. Noi non abbiamo mai investito risorse in pubblicità. Sicuramente voi siete abituati a vedere questi manifesti giganteschi, questi autobus vestiti di queste organizzazioni che ormai siamo abituati quasi a subire per certi aspetti. Non avrete mai visto forse Churto Schildre, perché le risorse, anche se modeste, le indirizziamo tutte in quella direzione. E con gli anni siamo sempre diventati più bravi, perché riusciamo a spendere sempre meno e curare sempre più bambini. Il numero che vi ho detto prima è un numero molto importante, ma ora vi darò un altro numero che vi farà molto riflettere. Generalmente, soprattutto negli ultimi anni, facciamo una media di 260-270 trapianti di midollo osseo all'anno. Può essere un numero piccolino visto così, ma dovete sapere che per raggiungere questo obiettivo ci vogliono tutti gli ospedali pediatrici italiani. Questo per rendere l'idea che molti ci dipingono come un'organizzazione piccola, piccola forse come bilancio, perché il 5 per 1000, se andrete a curiosare, che i cittadini ci destinano, è veramente modesto. Però, come avrete capito, tanto davvero con poco. Questa è Churto Schildre. Grazie di cuore a tutti. Grazie a tutti.